Ed è un po' una tradizione che abbiamo noi nella verbaggia che è quella di risolvere i problemi fra vicini di casa e non è abbastanza negativa e quindi questa è una confessione di un uomo che racconta e dice alla donna che è costretto a prendere una pistola e uccidere vicini di casa, un po' questo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti